Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City in apertura all'emergenza sanitaria, ennesimo attacco del sindaco di Napoli Luigi De Magistris nei confronti del governatore della Campania Vincenzo De Luca, solo 15 posti in terapia intensiva, la Campania rischia un nuovo lockdown. Attesa per il mondo della scuola, oggi prevista una nuova ordinanza regionale. Facciamo il punto anche in provincia di Napoli, contagi in aumento a Torre del Greco, nella giornata di ieri 14 nuovi casi che portano i positivi a 78, di cui 72 in isolamento domiciliare e 6 ospedalizzati. Sul fronte della sanità procede la riorganizzazione dell'ospedale maresca di Torre del Greco, il vecchio padiglione sarà dedicato soltanto ai pazienti Covid, mentre proseguirà l'assistenza sanitaria nel nuovo padiglione. Spazio anche alla cronaca, ancora controlli della Guardia di Finanza in provincia di Napoli per rispetto delle normative anti-Covid, non mancano le sanzioni. Scacco al Cifrone a Napoli, i carabinieri del comando provinciale hanno dato esecuzione questa mattina ad un'ordinanza cautelare nei confronti di 23 persone. Questo è molto altro. Guardiamo i servizi. Andremo sicuramente a lockdown in Campania. Sono rimasti 15 posti in terapia intensiva. Duro l'attacco del sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, nei confronti del presidente campano Vincenzo De Luca. Le persone a casa sono sole. Appena aumenta la febbre vanno in ospedale. Il virus è fuori controllo. De Luca ha vietato anche ai medici di dire la verità. Il tampone viene fatto dopo molti giorni. Il problema non sono i ragazzi, ha continuato il sindaco di Napoli. Intanto in campagne, i positivi al Covid-19 salgano a 27.412 per 1.593 nuovi casi su 12.695 tamponi. Numeri preoccupanti in una delle regioni con la più alta densità abitativa in Italia. Per questo motivo, nella giornata di ieri, il governatore Vincenzo De Luca, con l'ordinanza numero 81, ha deciso di confermare fino al 13 novembre le disposizioni vigenti nonostante il nuovo DPCM del 13 ottobre emanato dal Premier Conte. Diverso il discorso delle scuole. Dopo la chiusura totale e il ritorno alla didattica a distanza, lo sceriffo ha fatto un passo indietro, aprendo parzialmente ad un ritorno tra i banchi di scuola solamente per gli istituti frequentati dai bambini nella fascia dai 0 ai 6 anni. Non sono mancate le proteste delle mamme che in questi giorni di didattica a distanza non hanno fatto collegare i propri figli alla piattaforma scolastica. Penso a tutte quelle mamme con i bimi piccoli e che, come me, hanno altri grandi da gestire con la dad, afferma Cinzia, mamma di due bambini. Non è affatto semplice, mentre il grande è collegato con la scuola, nella stanzetta, il piccolo urla che vuole entrare a giocare. Sarei messa oggi, dopo un summit ai vertici, un'ordinanza specifica a proposito delle scuole. Finora il blocco è stabilito fino al 30 ottobre. Una situazione allarmante che il sindaco De Magistris commenta così. Che tristezza chiudere le scuole appena riaperte. Adesso il tema centrale è «Facciamo presto». In questo momento bisogna essere uniti. Aumentano i casi di contagio da Covid-19. Nel napoletano molti sono i comuni che ogni giorno registrano un aumento importante di positività sul territorio. È il caso del comune editore del Greco che ieri ha registrato 14 nuove positività al Covid-19, di cui un'euro nel regime ospitaliero e le altre 13 in forma sintomatica. Quindi sono in totale 78 i contagiati da coronavirus nel comune Corallino. Altri 8 cittadini positivi sono stati registrati ieri a Castellammare, tra cui anche un bambino di 9 anni. Da diverse settimane ormai si moltiplicano i casi di coronavirus nella nostra città. La preoccupazione è tanta. Oggi più che mai è fondamentale rispettare le regole in modo impeccabile, ha affermato il sindaco Gaetano Cimmino. Nel comune di Portici un dirigente comunale è risultato positivo al tampone e in questo momento si trova in isolamento. «Il dirigente sta bene», ha affermato il sindaco Cuomo, «ed è totalmente privo di sintomi. Dalla mia abitazione, Smart Working, continuerò a lavorare incessantemente per la nostra città, in attesa che, terminati i giorni di isolamento, possa tornare fisicamente tra voi». Sono 27 cittadini di Bosco Reale positivi al Covid-19, a comunicarlo il sindaco Antonio Diplomatico che aggiunge. «E' un dato sicuramente elevato, ma ancora contenuto rispetto ad altri comuni. Rinnovo l'invito ai cittadini di rispettare rigorosamente tutte le ormai note misure igienico-sanitarie e auguro ai contagiati una pronta guarigione». Intanto restano 72 casi di contagio nel comune di Ercolano e 68 a Torra Annunziata. I sindaci, pertanto, invitano tutti i cittadini a mantenere comportamenti irresponsabili. Un ospedale diviso a metà. Prosegue in queste ore la nuova riorganizzazione al Maresca di Torre del Greco. Dopo la decisione dei Vertici di riconvertirlo in punto Covid per fronteggiare la necessità di posti letto, visto l'incremento di positivi e la successiva mediazione della consigliera regionale Loredana Raia, si sta procedendo ad una rimodulazione delle attività che consentirà, da un lato, l'individuazione di nuovi posti letto per i casi di Covid e, dall'altro, la prosecuzione in piena sicurezza dell'assistenza chirurgica-oncologica e di screening per gli altri pazienti. In particolare, il vecchio padiglione sarà dedicato ai pazienti Covid, quindi al momento in pronto soccorso non vengono fatti altri ricoveri. Così nel reparto di medicina dove sono stati dimessi i pazienti con altre patologie e radiologia per le sale diagnostiche. Al nuovo padiglione invece proseguono le attività della gastroenterologia e degli ambulatori e si stanno attrezzando nuove sale operatori e una piccola diagnostica portatile per eseguire gli esami. Un comprensorio popoloso come quello servito dall'ospedale non si poteva sguarnire di servizi essenziali di assistenza dall'oggi al domani, sono le parole della consigliera Loredana Raia. Dopo l'incontro nei giorni scorsi con i vertici dell'ASL si è messo a punto un documento inviato alla Regione Campania. In particolare la proposta prevede che nel padiglione storico possano essere immediatamente ospitati 28 pazienti. Nello specifico al piano terra dove è allocato il pronto soccorso temporaneamente sospeso potranno essere accolti 10 pazienti con patologia da Covid-19 a media intensità, mentre al secondo piano nel reparto di medicina generale potranno essere ricoverati 18 pazienti a bassa intensità. A queste disponibilità immediate, si spiega nel documento, si aggiunge la possibilità a seguito di piccoli lavori di riattazione della zona dei servizi di implementare di ulteriore 15 posti letto nelle aree che attualmente ospitano le attività di oculistica al terzo piano. Nel nuovo padiglione, senza alcuna necessità né di interventi strutturali né di integrazione di risorse mediche per l'area chirurgica, si darà invece continuità assistenziale, chirurgica, oncologica e di screening per tutte le emergenze. Siamo chiamati tutti alla responsabilità e difficoltà e le criticità sono innumorevoli. Bisogna cooperare da ogni latitudine per adottare le migliori soluzioni. Mettiamo da parte le divisioni, conclude la RAIA, e remiamo tutti nella medesima direzione del bene comune. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato, anche in questo fine settimana, il dispositivo dei controlli volti a verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. In totale, tra venerdì e domenica, sono state controllate su tutta la provincia, 551 persone e 137 attività commerciali, 23 le sanzioni complessive, tra violazioni per il contenimento della diffusione del coronavirus, denunce all'autorità giudiziaria e segnalazione al prefetto. In particolare, la tenenza di Baia ha intimato la chiusura per cinque giorni a due ristoranti di Bacoli, dopo aver constatato la presenza, in quattro distinte cerimonie, tre prime comunioni e un battesimo, di circa 120 invitati, sanzionati i due titolari. Il gruppo di Nola ha riscontrato che in un panificio non era stato installato il termoscanner per all'irrelazione della temperatura dei clienti e una dipendente non utilizzava la mascherina. Nell'ambito di un ulteriore controllo presso un long bar dell'area Nolana sono stati rilevati due lavoratori irregolari. Il secondo nucleo operativo metropolitano nel capoluogo, tra i quartieri Vomero e Chiaia, ha sanzionato una ditta di gestione di parcheggi che non aveva mai effettuato la sanificazione dei locali e non disponeva del registro per il rilevamento della temperatura del personale dipendente. Scoperti anche due lavoratori in nero. La compagnia di Giuliano in campagna, tra il medesimo comune metropolitano e Merito di Napoli, ha sottoposto a sequestro diverse centinaia di grammi fra hashish e sigarette di contrabbando, segnalando al prefetto e denunciando all'autorità giudiziaria nel complesso due responsabili. La compagnia di Torre Anunziato, unitamente al commissariato e alla polizia locale, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Piombiera e via Vittorio Veneto, zone tipicamente interessate dalla Movida, sequestrando due slot machine in un'attività priva di autorizzazioni e denunciando il titolare per esercizio di gioco d'azzardo. Denunciato anche il titolare di una sala giochi, poiché raccoglieva scommesse in forma abusiva e un'avventura per partecipazione a gioco d'azzardo. Sanzionate infine cinque persone che si trovavano all'esterno di un locale per inosservanza del rispetto del distanziamento sociale. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 23 persone responsabili, a vario titolo, dei reati di associazioni di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, minaccia, detenzione e porto di armi e munizioni, tutti aggravati dal fine di avvantaggiare il sodalizio camorristico. Si tratta di persone ritenute dagli inquirenti legate al clan Cifrone, erede del Lorusso, che fa affari illeciti nei quartieri di Miano, Marianella, Chiaiano, Piscinola, Don Guanella, Coglia Minei e Sanità del Capolugo Partenopeo. Complessivamente sono stati eseguiti 21 arresti. I militari sono sulle tracce di altre due persone. Le misure cautelarie messe oggi sono frutto di indagini condotte dai militari della compagnia Vomero. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire il sistema mediante il quale il gruppo criminale ha sottoposto 11 esercenti ad estorsioni attraverso intimidazioni di stampo mafioso, imponendo loro la fornitura di generi alimentari e costringendoli con la violenza ad astenersi dal vendere nella zona sotto controllo del clan. Inoltre, dovevano consegnare mensilmente somme di denaro al clan. Grazie a tutti per la cortesia e attenzione. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani con una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale. Grazie a tutti.